Non sono delusa da loro. Io credo che anche la partita di oggi, che non meritavamo di perdere per quello che si è finito in campo, ma ha fatto vedere una cosa importante, la non tranquillità. Ecco, perché questo è stato secondo me il tema di questo europeo. Perché anche la partita di stasera l'hanno giocata, hanno avuto un sacco di occasioni, di situazioni, ma non siamo mai riusciti a concretizzarle. Quando tu non riesci a portarle dalla tua parte perché non hai quella tranquillità. E quindi nel pensiero collettivo si è partito con l'idea che questa squadra dovesse quasi vincere l'europeo. E non ci si dimentica che la squadra al mondiale ha fatto qualcosa di straordinario. straordinario lo dice la parola stessa. Quella cosa lì è stata un qualcosa di eccezionale. Quello che stiamo cercando di fare noi è quello che noi siamo. Che noi siamo, nel senso che siamo in una fascia media, non siamo in una fascia top. Questa è la realtà. E quindi siamo in una fascia media.